I latini dicevano mens sana in corpore sano, ovvero se il fisico è in forma anche il nostro cervello sta bene, ma come si fa a mantenersi in forma? Chiediamo qualche consiglio al dottor Giorgio Spacca. Buonasera a lei e ai telespettatori. La bella stagione si avvicina e anche la voglia di fare un po' di sport, cosa dobbiamo fare per tornare in forma? Per tornare in forma dal nostro inverno siberiano bisogna avere tre punti di riferimento fondamentali, che sono il medico di medicina generale, cioè il proprio medico che conosce bene la storia di ogni singola persona, può dare delle indicazioni, conosce eventuali interventi fatti, eventuali patologie, può scegliere a quale specialista indirizzare eventualmente il proprio paziente. La seconda figura è quella del cardiologo ed è importante sempre quando si rinizia un'attività e questo a qualsiasi età, sottoporsi ad una visita cardiologica, eventualmente con elettrocardiogramma, sarà poi il cardiologo che sceglierà ulteriori approfondimenti clinici, veda sia elettrocardiogramma da sforzo o ecocardiogramma, se sarà necessario. C'è poi una terza figura che viene scarsamente considerata invece di prevalente importanza ed è quella del preparatore atletico. Ecco, è poi da poter dare il suggerimento più idoneo a quella persona che vuole praticare quel tipo specifico di attività sportiva. Ma palestra o attività all'aria aperta? Che cosa consiglia? Si consiglia sempre l'attività motoria, ginnico-motoria. Palestra è un peccato adesso che andiamo incontro alla bella stagione. Già siamo stati costretti per lungo tempo a rimanere a domicilio e a svolgere attività dentro le quattro mura. Per cui in questo periodo si consiglia assolutamente l'attività all'aria aperta. E nella fattispecie scegliere quel tipo di attività prevalentemente aerobico e alattacido. Sono dei termini un po' complessi, ma in realtà è semplice la spiegazione. Se noi immaginiamo che un centometrista svolge una funzione prevalentemente lattacida e in anaerobiosi perché respira prima della partenza e torna a respirare dopo l'arrivo, mentre il maratoneta o chi compie una lunga passeggiata svolge una funzione prevalentemente aerobica e in questo caso lattacida. Alcune attività sportive invece, purtroppo quelle più praticate come il calcio, il calcetto, il rugby, sono degli sport misti, sono degli sport a lattacido lattacidi e aerobico anaerobici. Perché? Perché in realtà pur dando possibilità a lungo di rimanere fermi a seconda poi anche della particolarità espletata nel gioco specifico, poi richiedono invece degli sforzi massimali. Ecco, sono questi sforzi massimali che mettono poi a rischio l'apparato cardiaco e quindi quello cardiorespiratorio. Ecco, dottore, ma con quale frequenza dobbiamo fare sport? Guardi, ci sono degli studi, peraltro su Fragati, perché pubblicati su riviste con impact factor notevoli, che tendono a dimostrare come anche un'ora tre volte a settimana, svolta di attività, come dicevo prima, prevalentemente di tipo a lattacido aerobico, possono indurre a distanza di 4 mesi delle significative modificazioni sia nell'LDL, cioè nelle low density lipoprotein, cioè il cosiddetto colesterolo cattivo, mentre per l'inalzamento del colesterolo cosiddetto buono, delle high density lipoprotein, bisogna attendere un periodo più lungo. E così, a distanza di 4 mesi si hanno delle variazioni glicemiche, ovviamente intese in senso positivo. Quindi un'ora di attività svolta costantemente nel tempo, anche tre volte a settimana, possono assicurare un buon rendimento a livello fisico. Invece da un punto di vista dell'alimentazione, come mi devo comportare durante un periodo di allenamento? Allora, noi siamo estremamente fortunati, perché pur volendoci rifare alla cosiddetta piramide alimentare, che è stata escogitata come al solito dagli statunitensi, nella piramide alimentare noi ritroviamo tutti alimenti che fanno parte della dieta mediterranea. Si definisce piramide perché all'apice vanno i cibi a più lenta elaborazione digestiva, burro e suoi derivati, carni rosse. Alla base invece troviamo legumi, l'olio, prevalentemente l'olio d'oliva, pesce, carni bianche, frutta, verdura. Allora, è sufficiente mantenere questo tipo di concetto. Intanto nell'arco della giornata la famosa regola del 3 più 2, cioè 3 volte frutta più 2 di verdura o viceversa, 3 volte verdura e 2 volte frutta. Scegliere poi il multicolore, perché al multicolore poi consegue il fatto che c'è una diversificazione nella stessa alimentazione. Mantenere assolutamente l'apporto idrico, che non deve superare, che non deve essere inferiore a un litro e mezzo e anche l'apporto, la possibilità di bere un bicchiere di vino, soprattutto quello rosso, ricco di polifenoli, viene oggi da molti studi considerato un fattore sano. Grazie dottore e arrivederci. Arrivederci. Noi torniamo invece tra pochissimo, dopo qualche minuto di pausa, per parlare dei nostri amici animali.